Ciao, oggi vi faccio vedere due modelli uguali o quasi uguali della Gerber. Si tratta dei modelli covert folder disegnati da applicate e failbarn. I modelli sono molto simili al modello fisso, questi sono due modelli leggermente diversi per una questione di età, una è più vecchia e una è più nuova. Le forme intanto sono apribili ad una mano entrambi, come vedete le forme sono le stesse, misure e tutto. Cambia leggermente il thumbstead e alcune viterie. Uno ha la lama satinata nera e l'altro ha la lama satinata, volevo dire, e l'altro invece c'è la nera. Se ricordo bene dovrebbero essere entrambi in accello 154cm, ci sono delle scritte che comunque sono quasi invisibili sugli entrambi i modelli. Comunque qui c'è scritto Gerber e qui da questo lato abbiamo le firme Fairburn, Applicate e Fairburn. In più abbiamo la particolarità di un blocco che non permette più lo sblocco della lama. Sbloccandolo il liner ritorna utilizzabile e si può chiudere il coltello. Il modello ha una clip posteriore che non è modificabile, quindi soltanto da questo lato è fissa. E la manicatura è in nylon rinforzato. Il coltello è un coltello tattico da combattimento. Ha, come vedete, un falso controfilo che ricorda il modello originale che effettivamente invece ha il doppio filo. I due modelli sono praticamente identici. Cambia come vi dicevo soltanto il coltello della lama. Le dimensioni sono medie, abbiamo 210 mm, 215 mm di lunghezza e una lama da 3,75 pollici, quindi 90 mm circa, 90-94 mm. C'è una serie più grande di questa e una serie più piccola che è il mini covart che praticamente è uguale, però le dimensioni sono più piccole. Oltre a questi due c'è una serie ancora più grande, il combat folder, che è ancora più grosso di questa serie qua. Il piccolo è, se ricordo bene, c'è 420, ha la firma, come vedete, è per gate fireburn, però non ha il blocco di sicurezza sulla lama. La chiusura è sempre linear lock, come anche i modelli più grandi. E questi sono i modelli che completano la serie Apple Grid Fireburn di Gerber, oltre ai modelli fissi. Non sopra l'altro, poi ci sono i modelli, quindi ho il luogo, quindi ho il luogo, anche per quadrare un'l'interringa. Ho i termini di regolazione che faccio l'interringa. Ho il luogo in il luogo, quindi ho i dimensi, il luogo in cui viene in un luogo. Ho i termini di giarkan, il luogo e l'altro. Ho i termini della staglia di gioversi. Ho i termini di gioco tutto, e poi ho i termini di gioco. Grazie.